camminato il cane guarda il cane guarda il cane il cane guarda 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 è ferito bravo qua 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 vai ma no vai vai via qua che cominciavano a fermare eh non la portavano via cosa che portavano via no 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 qua qua vai qua ancora uno porto io no no ancora questo io dopo ho messo la bomba qua fammi scusare dopo ti vuoi un altro per tenere l'equilibrio adesso ho l'equilibrio per tenere l'equilibrio attento non 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 Grazie a tutti.